Grazie a tutti Ecco qui con la different night Tu ora tocca a te, sei pronto? E' vero Wow Quindi siamo pronti per iniziare la different night Siamo emozionati? Io sono molto emozionato Ma come mi hai provata? Beh, una donata Che dottoressa carina Certo, come dico mi hai provata sui social Come sei giunto a me? Ah, allora come Sì, certo, social Social Ormai è di moda Tutti Frequentano i social E io cercavo proprio Il tuo rumore Ok, quindi ora tocca a te Con la different night La dieta, la super dieta per te Eccoci, quindi siamo pronti Per seguire la different night Sì, siamo pronti Adesso ti voglio omaggiare Perché comunque ragazzi Mo parte Massimo parte per San Rimo Mi ha anche invitata la serata di apertura di San Rimo Ma io non ci sarò per ovvi motivi Eh no, devi venire Non riesco perché comunque Ho il vaccino di Leonardo Quindi come faccio? Vorrei venire Però non riesco Quindi ecco per te il libro Mangia che sei a mieta Tante ricette gustose Benissimo Ecco le mani Non vediamo l'ora Senti Se uno per caso Ha qualche intolleranza Facciamo sempre una dita specifica Tranquillamente Non l'elaboriamo ragazzi Oh, ma ogni volta Che finisco una cena o un prato Mi posso mangiare il gelato? Sì, sì Ma è di freddato La è di freddato di tutto Ho fatto anche la dedica Massimo Ho fatto anche la dedica A Massimo Bolli Seguo sempre da piccola Con affetto Non si capisce molto La mia scrittura Eh, esatto Bravo Quello è il senso A me è Un attimo per il matrimonio Se vuole venire al matrimonio Come no Dice me Sono bella Allora Massimo Adesso abbiamo preso Tutti i tuoi dati Che non possiamo comunque dire Perché ci sono dati sensibili Le stesse Le stesse Le circonferenze E abbiamo fatto anche L'esame di inferenziometrico Per calcolare La massa grassa La massa madre Quindi devo dire che Nonostante la tua età Comunque ovviamente Tutti conosciamo Massimo In ottima forma Dobbiamo togliere Soltanto un po' di pancetta Di grasso localizzato E basta E' bella di loro Consigli Sì, certo Devi ascoltare i miei consigli Devo fare i piedi figli Di me E della differenzi Perché credi Appunto in questo metodo E io adesso Visto che comunque Dovrei partire Tra poco Ti voglio mangiare E regalare il mio libro Mangia che sei a dieta Dove ci sono Tutti i segreti Della differenza E la ricetta Magari che sei a dieta Magari farei preparare Qualche ricetta Verso le light Qualche primo Qualche dolce Allora Dottoressa Alessia Aprea Sì Ti devo chiamare Dottoressa Alessia O devo chiamarla È uguale È uguale A te il concetto è tutto Beh è differente Qui dice Differente C'è C'è il simbolo Di una farfalla Esatto Che vuol dire Che ti senti leggero Sì Anche Poi la metomorfosi La trasformazione Dobbiamo togliere Questa pancetta Ma è giusto Al di là Della pancetta È giusto Come stile di vita Per salute La dobbiamo fare Va bene Giusto Giusto Ma come sei giunto A me Tramite social Tramite Passaparola Come sei giunto A me Beh Visto Che c'è ormai Questa febbre I social Si guarda tutto Si cerca di Interessarsi Soprattutto Su argomenti Che interessano a te E di conseguenza Interessano a te Interessano a me Ok Quindi comunque Ti è rimasto affascinato Dalla differente Dai Ora iniziamo Si Cara dottoressa Aprea Allora Qui Vediamo Mangia Che sei A dieta Perché Con la differenza Si può dimagrire Mangiando Perché Possiamo mangiare Tutto I dieti Più buoni In assoluto La bolognese La lapagna La lapina Ammarata Tutto invece Nell'alta Anche dolci Visto che comunque E se sei Intolerante A qualche Tipo A lattosio Eh I dolci Senza lattosio Assolutamente Quindi comunque È una dieta Appropriata E fatta a smisura Per te Quindi ora Tocca a te Different diet Cosa vuoi far mangiare? Tutto Cosa vuoi mandare? Nel vero Invece Vada Le cose Ah Buono Si può fare Si può fare Anche dolci Visto che è Ecolosissimo Il tiramisù Anche Sì Il tiramisù Sì Sì Più di tirasù E più di tirasù Esatto Hai mai pensato Di mangiare Ciò che vuoi In una dieta Su misura Per te Dalla lasagna In versione Light A dolce pizza Non dovrai rinunciare Senza alcun farmaco Veloce E semplice Pratica Non è un sogno Ad essere realtà Questa è Different diet Dimagrire Mangiando Different diet E vivere Meglio Perdere peso Senza rinunciare Alla bontà Alle golosità Different diet Nostri pazienti La big family Seguiti e coccolati Come non mai Oh la dieta Devi Ma è con ogni L'amore Questa è un po' di Alla bontà Un po' di Nostri pazienti Alla bontà E qui Questa è un po' di